Vediamo un po' di opzioni di testo all'interno di AfferaFX. Per prima cosa non è sufficiente premere la lettera T da tastiera per richiamarlo, ma in questo caso dobbiamo fare Command-T. Eccolo qua. Noi possiamo creare testo in due modi. Possiamo cliccare e trascinare, in questo modo creiamo una cornice di testo. All'interno di questa cornice possiamo formattare in maniera differente solamente parte del testo. Con la sezione paragrafo possiamo gestire la bandiera e possiamo avere delle altre opzioni, come per esempio il rientro tra un paragrafo e l'altro, i rientri destra e sinistra. Stesse cose che avremo in tutti i software di editing di testo. Qui possiamo gestire tutte le variabili del nostro testo. Possiamo inserire anche una seconda tipologia di testo, ovvero invece di creare una cornice, clicchiamo e scriviamo direttamente. Ora ingrandiamo un po' il nostro testo e andiamo anche a centrarlo. Vediamo che il punto di ancoraggio del nostro testo è esattamente nel mezzo. Quindi se noi proviamo a ruotarlo con lo strumento ruota, quello che succede è che ruoterà intorno al punto di ancoraggio. Questa opzione può essere cambiata oltre che manualmente con lo strumento punto di ancoraggio, può essere cambiata dal paragrafo. Infatti se io vado ad allineare da un'altra parte, il mio testo ruoterà intorno a un punto diverso al centro, all'inizio o alla fine. Una cosa molto interessante che è bene sapere è che il testo può essere animato tramite la sorgente, ovvero io mi posiziono all'inizio e attivo lo stopwatch. In questo momento il mio testo dice text. Vado a un secondo, Command-T per richiamare lo strumento testo, clicco ed edito e il mio testo adesso sarà text2. Vedete che abbiamo bloccato, abbiamo creato dei keyframe bloccati. Andiamo a due secondi e gli diciamo text3. I keyframe bloccati sono dei keyframe a tutti gli effetti, però fanno sì che il testo cambi non lungo l'asse temporale, ma esattamente nel momento in cui il nostro cursore passa su quel punto. In questo modo si può animare un testo inserendo più informazioni senza dover creare mille livelli di testo, ma tutto semplicemente in un solo livello con i nostri keyframe.